Stanno i nerd Vabbè sì dai i nerd, pure noi li chiamiamo i nerd Anni RD per fare un po' gli americani Visto che siamo in una radio fighissima Che ha anche una seda a Miami Oh yeah, international, 100% radio, 105 amici Questa sera concludiamo così La nostra puntata del martedì Sera un po' international ma anche un po' law Beh sì, se ascolti il weekend Più o meno la sera è questa È vero, è vero Proverò poi forse a fine aprile Anche io a fare una diretta da Miami Forse, forse vediamo Beh, deve essere bello Anch'io vorrei provare Cross fingers, incrociamo le dita amici belli Beh, mi è rimasta impressa quella cosa della domanda E poi mi è rimasto impressa anche il fatto Che adesso tutti stanno scrivendo la loro sul poliamore Adesso che è finita la trasmissione Eh lo so, dovremmo riaprire l'argomento Se avvicinano le 23 di solito è un argomento che ci sta quest'ora Va bene, Rebecca Staffelli e Alisanzone Vi do un appuntamento a domani Grazie Mattia, grazie Chicco, grazie a tutti Ciao Ciao